ciao a tutti ragazzi io sono zai benvenuti sul mio canale adesso io adesso mi abbassi un attimo perché mia mamma sta cercando di addormentare il mio fratello come potete vedere da quello che vi ho fatto vedere prima sta nevicando anzi aveva nevicato ciao geltrude geltrude è diventato di ghiaccio non l'ho chiamato geltrude comunque abbiamo fatto un pazzo di neve ragazzi prima l'abbiamo fatto no io con papà ha perso il naso poi cercheremo di modificarlo un po adesso è praticamente diventato di ghiaccio freddo 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 l'informazione che sono tre gradi adesso vi farò vedere il mio pupazzo di neve pupazzo non è che sia un pupazzo di neve non è che sia tanto ben venuto bene il mio è molto brutto pure adesso gli è andato via anche il naso il naso era un limone ciao come sei bello comunque ragazzi il mio mignolino sta un po meglio i bottoni le conchiglie un nastro per la sciarpa una scatolina l'ho messa io per fare il cappello due bottoni qua dentro c'era un limone qua invece avevo proprio fatto io così e poi basta qua devo fare piano 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 perché sennò scivolo 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 oh questa è morbidissima non l'avevo mai toccata così morbida freddo 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 alle mie mani freddo 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 comunque vi lo dico è da due anni che non sta nevicando è solo per cadere come i cartoni così voglio provare a vedere ragazzi se riusciamo tipo a fare una pallina fare un pupazzo di neve lo possiamo fare sopra questo tavolo quindi voglio subito provare adesso prendo un po di neve poi daremo un nome noi insieme scrivetelo già nei commenti però potrai prendere i guanti no freddo 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 vado un attimo a prendere i guanti che sono quelli di mia madre allora ragazzi ho preso i guanti di mia mamma io non ce li ho ho preso un po di neve pallina tanta neve cercherò di fare una pallina un po più grande ma più piccola perché noi facevamo così 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 poi io facevo una riga per separare il corpo dalla testa aggiungevamo gli stecchini e basta no qua adesso proprio voglio proprio fare la pallina la pallina no 15 per cento ragazzi mi devo muovere mi dispiace che voi non potete vederla vorrei tanto prenderla però quando la volevo prendere è successo quello che ok mi è caduto il telefono quindi guardate è questa la pallina la nostra pallina è questa ci metterà un'eternità sta venendo così che stava per risuccedere ragazzi stava per risuccedere stava per risuccedere ragazzi comunque ringrazio molto perché siamo arrivati a tantissimi iscritti più di 200 sono super contenta perché ormai ogni giorno ogni giorno o uno o due ne ricevia gli iscritti il problema della neve è che è molto genta non arriva al 5 per cento perché chiaramente si scaricherà il telefono quindi capito quindi faremo una seconda parte se non lo vedrete tutto mi dispiace ma purtroppo è così io continuo perché secondo me questa è la volta buona è la volta buona ma se pesa sto masso di neve trovo tipo un po' modellando a renderlo un po' diciamo arrotondato non è venuto un'idea facciamolo quadrato che bello che bello fare fare una scultura bellissima la sto facendo ultra rotonda non ci posso credere ci ha messo tipo 28 minuti e 16 secondi ragazzi questo qui è il risultato finale del nostro pupazzo come vi ho detto prima datevi voi il nome sono prontissima e lo sceglierò comunque è bellissimo ciao a tutti ragazzi oggi è il 31 di dicembre capodanno e adesso nico io e la mamma stiamo preparando la cena io e la mamma mentre nico dormiva abbiamo fatto questo il panettone gastronomico abbiamo messo filadelfa e prosciutto stracchino e prosciutto e come se lo avvocato e salmone lompo e burro e qua abbiamo un cuoco nico nico molto bravo e che cane oggi h gigole h vuol dire e benvenuti sul mio canale oggi che sarebbe oggi e poi l'altra cosa non so che cosa vuol dire allora adesso vai dobbiamo coprire poco poco appunto appunto nico togli la mano no si come va nico eh ma che cane oggi ha cagli e vengo l'olio che arriva dalle olive massaggiate dall'olivo coltore lo sai che sto registrando vero quindi non fare la pazza che bevo e poi tra l'altro qua ragazzi abbiamo le vongole molto buone ma tu le mangi neanche? eh lo so neanche queste mangi si non mi piacciono possiamo mettere nel forno queste guance eh ma non pu... dai dai ragazzi è la mia cosa preferita questo è buonissimo Chef Zoe in arrivo serve il tiramisù fatto molto veloce l'ho fatto tutto io eh ok no non ok no è ok quella è poi bellissimo solo che fa molto freddo ragazzi adesso sono distrutta abbiamo fatto le fontane abbiamo acceso i dettagli io ho fatto le stelline e io adesso vado a dormire buon anno a tutti e poi ovviamente iscrivetevi al Natale ciao ragazzi iscrivetevi al mio canale ciao